Quattro storie, quattro problemi forse impossibili da superare, la famiglia di oggi vista attraverso la lente deforme della perfezione a tutti i costi, dove le difficoltà spesso non vengono affrontate insieme, imperfetti sconosciuti. Il cortometraggio realizzato dall'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, una serata dedicata alla comunicazione nella famiglia. Lunedì 15 giugno ore 21, proiezione e dibattito, cinema politeama di Fano, ingresso libero. Sono 12 gli attori protagonisti di Imperfetti sconosciuti, il cortometraggio scritto da Enrica Papetti per la regia di Luca Misurello, dedicato alla famiglia, realizzato dall'ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. In programma per lunedì 15 giugno alle ore 21, al cinema politeama di Fano, con ingresso libero, il corto racconta in 36 minuti la quotidianità della famiglia di oggi, dove da imperfetta può diventare una grande scuola di dialogo. Sì, il cortometraggio Imperfetti sconosciuti nasce proprio dal messaggio del Papa per la giornata per le comunicazioni sociali, che è comunicare alla famiglia, ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore. Che cosa racconta il cortometraggio? Il cortometraggio racconta la vita quotidiana, quello che succede purtroppo nelle famiglie. Sono quattro storie, riguardano la separazione, la perdita del lavoro, il dialogo, il rapporto genitori-figli e la problematica di avere un anziano in casa e quindi tutto quello che ne sussegue. Siamo partiti per raccontare queste quattro storie e ovviamente ci siamo fatti ispirare ovviamente dal quotidiano, con un finale un po' a sorpresa, richiamato un po' nel titolo Imperfetti sconosciuti. Qual è il messaggio che avete voluto lanciare? Sì, il messaggio che con questo corto abbiamo voluto lanciare è che la famiglia perfetta non esiste, ma che all'interno delle imperfezioni che ci sono nella famiglia, queste imperfezioni possono diventare anche se accolte dai vari membri della famiglia e quindi anche relazionati anche nel modo giusto, possono diventare una ricchezza. Ed è un po' anche quello che Doniva Maffeis, che è il direttore nazionale per le comunicazioni sociali della conferenza episcopale italiana, ha sottolineato nella recensione che ci ha fatto a questo corto, avendolo visto in anteprima appunto anche lui ha sottolineato questo.